Si naviga a vista anche se manca meno di un giorno al primo consiglio comunale di Barletta. L'accordo per l'elezione del presidente del consiglio potrebbe essere trovato all'interno della maggioranza tra sindaco e i nove consiglieri dissidenti della coalizione del buon governo anche nelle prossime ore ma non è detto che all'appuntamento di domani pomeriggio la convocazione per le 16 si arrivi al buio. Le posizioni non sembrano essere cambiate rispetto ad una settimana fa. Il Cataldo della lista buona politica i nove consiglieri dissidenti ai quali non è piaciuta la composizione della giunta da parte del primo cittadino mettono sul tavolo un ventaglio di quattro nomi di Corato che però si era tirato fuori dalla corsa alla presidenza proprio con un'intervista alla nostra emittente Damato, Lo Sappio e Rosa Tuputi. Le riunioni si terranno sino al ridosso del primo consiglio comunale per evitare che quello di domani pomeriggio diventi una trappola per la coalizione del buon governo. Proprio per questo c'è chi nelle scorse settimane aveva anche ipotizzato la possibilità che il primo consiglio andasse deserto per rimandare la questione a dopoferragosto. Nella situazione di stallo c'è chi come il Movimento 5 Stelle mette in campo il proprio candidato per la presidenza. Si tratta dell'avvocato Antonio Coriolano che si legge in una nota ufficiale può rappresentare degnamente tutta l'assise comunale. La nostra proposta, dichiarano ancora i grillini, è estranea alle logiche di potere a cui assistiamo già prima dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.